Ciao a tutti, siamo qui per una nuova puntata di chitarre di un certo livello e questa sera abbiamo una Cole Clark Angel 2 Blackwood Cole Clark è un marchio australiano, chitarre che hanno la peculiarità di utilizzare principalmente legni autoctoni quindi tutti i legni australiani, in questo caso abbiamo sia top che fondo e fasce in Blackwood All Solid è una chitarra molto particolare, diversa da quelle che siamo abituati ad ascoltare con i legni tradizionali ed è una chitarra soprattutto pensata per il live, grazie al suo sistema di amplificazione a tre vie con un piezo, un sensore sotto la tavola e un microfono a condensatore all'interno miscelando appunto queste tre sorgenti si riesce ad ottenere un suono molto naturale e molto efficace nell'impianto live ovviamente ascolteremo questa chitarra sia col suono naturale ripreso da due microfoni a condensatore Rode M5 sia attraverso il suo sistema di amplificazione a tre vie grazie a tutti 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 Grazie a tutti